buongiorno a tutti popolo di youtube iscrivetevi al nostro canale cliccate sul tazzo iscriviti e sulla campanella a fianco vi aspettiamo numerosi anche sui nostri profili instagram sulla nostra pagina gruppo banco matti e sul nostro canale gruppo telegram ciao ciao amici buongiorno benvenuti sul canale dei banco matti sono michi vi do il benvenuto allora oggi voglio farvi vedere una piccola frigatina che utilizzo io quando sono in un contesto un attimo particolare ovvero quando non posso tenere il telefono col volume alto quando non voglio far sentire quello che sto guardando o magari quando proprio non si può quindi vi dico amici che siete anche al lavoro o magari siete in un determinato contesto che però potete avere il telefono davanti ma non il volume abbasso la voce perché iniziamo entrare in modalità spia quindi vi dico ora vi faccio vedere una bella cosa che vi permetterà di guardare i video dei banco matti anche quando magari siete al lavoro c'è davvero questa è davvero davvero una cosa bella più che altro anche per iniziare a capire il video prima che magari lo guardate già a casa la sera le promo sono terminate o magari quando guardate il video potevate già andare prima a fare il colpo insomma cose del genere per non per rimanere sempre sul pezzo al momento allora intanto cambio schermata e vi faccio vedere una cosa ok qua siamo sul mio telefonino sposto un attimo la schermo ok solite cose mio telefonino come vedete sono a mezzanotte 16 che sto registrando questo video ok il trucco parte nel seguente modo youtube e felici siamo home page di youtube uguale per tutti voi io vado sul tuo canale però facciamo così facciamolo ancora più facile mi metto banco matti bancomatti ok prendiamo questo prendo il terzo a caso ma funziona su tutti quanti è ok come vedete io come voi aspetta che intanto ve lo faccio vedere disattiva facciamo che partiamo come voi questo perché l'ho già guardato ho il telefono senza suono cioè lo faccio partire vedete che non si sente niente c'è proprio così perché proprio in modalità muto ok mando indietro l'episodio voi cliccate vedete i pallini qua in alto questi tre pallini cliccate andate su questa voce che è sotto titoli cliccate e mettete poi l'ultimo italiano generate automaticamente allora premetto è i sottotitoli sono generati automaticamente da youtube volendo c'è anche la possibilità di scriverli però se mi metto a scrivere anche i sottotitoli facciamo un episodio al mese cioè è proprio lunga cliccate su play e guardate questa è la sigla avete visto vediamo un attimo una cosa vedete che la stringo questa è la schermata del telefono eh nulla di più nulla di meno l'avete visto quindi voi questo è il mio telefono che è in riproduzione via wifi sullo schermo del computer e tranquillamente voi ve lo mettete lì di fianco nessuno vi rompe le balle lavoro di qua di là e praticamente vi riuscite a guardare il video dei bancomatti coi sottotitoli c'è nel senso c'è la punteggiatura e le traduce e la generazione di sottotitoli come dicevo prima è quello che è però riuscite a rimanere sempre aggiornati sul pezzo allora è davvero comodo ammetto che è davvero comodo quindi io vi dico con questo piccolo segretino vi può cambiare la giornata cioè diciamo così questo vale per me questo vale per qualsiasi altro video con le canzoni poi ve la vedete così allora amici con questo piccolo trick chiamiamolo trick io vi auguro una buona giornata e un buon lunedì ci vediamo oggi pomeriggio perché si vocifera di una live dei bancomatti davvero davvero perché c'erano tante cose da dire sabato non ci siamo riusciti ma proseguiamo in questo modo allora ci vediamo tra poco buona settimana che buon lavoro tutti quanti ciao ehi grazie per essere arrivato in fondo a questo video se clicchi sul pulsante qua di fianco attivi l'iscrizione e clicchi sulla campanella noi bancomatti saremo sempre felici di avvisarti su una nuova un nuovo episodio una nuova promo o un'altra modalità per risparmiare rimani con noi ciao ciao